Partipiano l'ala esterna, problemi per Lennox e Lebri, problemi anche per Legolas, così lottano il 5 di Luca Sturro con all'esterno il numero 8 di Luca Bernardo, Luca Sturro al comando, Luca Bernardo che si accoda, poi c'è lungo la corda il numero 9 di London Derrifetz, davanti al numero 6, Lord of Griff, poi Sloga Queen, Lexus Griff, mentre lontano Lennox LP davanti a Lucrezia, ciò distante e squalificato. Legolas, i primi 400 di gara in 29.2, Luca Sturro che conduce, Luca Bernardo che è lì sotto, London Derrif, lungo la corda con il battistrada che rallenta, cavalli che sono dopo 600 di gara passati in questo momento in 45.6. Il netto rallentamento per Fabrizio Ciulla che si volta a destra, arriva la sagoma di Lord of Griff che si trascina il numero 7 di Luca Queen davanti alle tribune, il gruppo si fa più contatto, ha rallentato molto Luca Sturro, 1, 1 e 4 per i primi 800 di gara. Sulla curva, Luca Sturro, Lord of Griff, dentro Luca Bernardo, all'esterno Luca Queen, di dentro anche il London Derrifetz, poi il numero 4 Lexus Griff, 17.1 per il chilometro, molto comodo per Luca Sturro e Fabrizio Ciulla che adesso cerca di scappare, Lord of Griff per ora lo accompagna. Luca Queen cerca di andare in terza ruota, il ritmo si fa molto più vivace, 14.4 per la retta opposta e Luca Queen guadagna all'esterno, va sul Lord of Griff, punta su Luca Sturro, Luca Queen e Paolo Leoni, mezzo cavallo davanti a Luca Sturro, Lord of Griff sembra già abbattuto, Luca Bernardo ha perso sull'allungo, la voce di Paolo Leoni passa la curva, scende anche al comando, Luca Queen dopo una curva in 14.3, Luca Queen, nuovo training con Paolo Leoni che va al doppio in giornata e questa è una nuova Luca Queen, vince 1.15.2 nei confronti del 5 Luca Sturro e del 6 Lord of Griff che hanno la sola colpa di aver trovato un aeroplano in Luca Queen che li ha stesi, 13.85, 15.2 la media al chilometro, cioè 28.8 a chiudere, che è davvero un numero per come lo ha fatto Luca Queen, vedete le immagini, vi aveva detto Giovanni Callegaro che Paolo Leoni l'aveva vista al meglio nelle sgambature, forse più che meglio, eccezionale questo primo piano di Luca Queen, Paolo Leoni, 1.15.2, 13.85 la quota. Grazie a tutti, grazie a tutti.